Buonasera a tutti. Ciao Ivan, ciao Walter, ciao Chris e ciao Gino, ciao a tutti. Primo troncone siamo arrivati intanto. E se fa sempre fatica come entro. ciao 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 è nato il cane 13 anni vado giù che sei sudato? sei già arrivato, sì sì ciao ciao io ti conmemorare il suo sì sì grazie